Un nuovo strumento in continua crescita per scoprire in rete la storia del territorio piemontese, sfogliando già oggi più di un milione di pagine, oltre 100 testate giornalistiche e locali, dal 1846 ai giorni nostri. Su www.giornalidelpiemonte.it tutti possono consultare, in modo libero e gratuito, gli archivi digitali dei periodici piemontesi per riscoprire, investigare e ricordare storie grandi e piccole del passato o di una memoria che ancora ci appartiene. Il progetto è stato ideato dalla Regione Piemonte e dal Consiglio regionale del Piemonte per valorizzare un patrimonio culturale e documentale importante e per contribuire alla ricostruzione della storia politica, economica, civile e sociale nelle comunità locali e del territorio. Alla sua realizzazione partecipano biblioteche, editori e la Federazione Italiana Piccoli Editori di Giornali che condividono l'idea della fruizione libera e gratuita, mentre la piattaforma web è curata dal CSI Piemonte. Se sei un giornalista, puoi utilizzare il sito per fare ricerche, ricostruire vicende locali, acquisire dati e documentazione originale, tutti elementi utili alla redazione dei tuoi articoli. Se sei un insegnante, hai a disposizione materiali inediti e fonti originali per la didattica in classe e per coinvolgere gli studenti nella ricerca storica. Se sei un ricercatore, puoi condurre ricerche su eventi, tradizioni, personaggi del territorio, studiandone aspetti specifici. E anche se sei solo a caccia di curiosità, puoi scoprire aspetti nuovi del luogo in cui vivi o semplicemente perderti tra le notizie del passato dalla metà dell'Ottocento in poi. La ricerca degli articoli è semplice. Puoi navigare tra le notizie digitando una parola o un testo nel campo di ricerca in home page. Puoi anche utilizzare la ricerca avanzata per restringere il campo d'azione o fare indagini più approfondite. Ad esempio, puoi selezionare solo alcuni periodici o individuare un arco temporale specifico. Con un clic su uno dei risultati ottenuti, puoi visualizzare e leggere la pagina del giornale. Puoi anche sfogliare l'intera edizione di un giornale, scegliendo un giorno che ti interessa. Infine, puoi archiviare le pagine trovate in un apposito fascicolo, per rivederle prima di chiudere il browser. Il portale Giornali del Piemonte è uno strumento innovativo per conoscere la nostra storia, per lavorare, studiare e divertirsi tra le migliaia di pagine dei periodici locali, scritte nell'arco di un secolo e mezzo. Grazie. Grazie. Grazie.